ciao a tutti e benvenuti nel mio canale oggi vi farò vedere come fare questa simpaticissima toglietta americana con della fettuccia e poi andremo anche a decorarla guardate questo tutorial e spero che vi piacerà ma soprattutto che vi possa essere utile non dimenticate di iscrivervi al canale perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi e vi lascio a questo tutorial per andare a realizzare insieme a me questa simpaticissima tovaglietta ciao a tutti e buona visione allora per fare questa tovaglietta ci serve della fettuccia in cotone del colore che più piace a voi e un uncinetto numero 9 se non avete l'uncinetto numero 9 e avete più piccolino basta aumentare il numero delle catenelle allora iniziamo il lavoro facendo un cappio prendete il filo girate l'uncinetto caricate e passate ecco qui fatto il nostro cappio dobbiamo fare 26 catenelle cominciate a contare 1 2 3 4 5 e così via fino a arrivare a 26 catenelle ripeto se l'uncinetto è più piccolino fatene 28 o 30 una volta finite le nostre catenelle faremo il nostro lavoro con la maglia bassa allora vi mostro come si fa la maglia bassa infiliamo in questo punto qui successivamente proprio nella catenella di prima il nostro uncinetto e allora vediamo se mette a fuoco la videocamera ok infiliamo il nostro uncinetto carichiamo il filo e avremo due maglie sul nostro uncinetto carichiamo ancora il filo tiriamo ed ecco fatta la nostra prima maglia bassa facciamo ancora un'altra allora nel prossimo nel prossimo foro della catenella infiliamo il nostro uncinetto carichiamo il filo tiriamo e avremo due maglie sul nostro uncinetto carichiamo ancora il filo e tiriamo ed ecco fatta la nostra catenella continuiamo così per tutto finché non avremo lavorato tutta la nostra catenella ecco fatto una volta lavorata la nostra tutta la nostra catenella anzi vi dico subito quanti centimetri deve essere così indifferentemente o indipendentemente da che uncinetto usato usate vi dico quanti centimetri deve essere la base allora ho misurato e la base indipendentemente appunto da che uncinetto usate deve essere 27 28 cm una volta lavorata tutta la catenella semplicemente giriamo il lavoro così e andremo a lavorare di nuovo come abbiamo fatto prima sempre a maglia bassa quindi infiliamo uncinetto carichiamo e scarichiamo il filo allora lavoreremo così a maglia bassa per circa 23 giri circa continuate così a lavorare a zig zag per circa 23 giri sto già lavorando il terzo giro e come vi ho detto prima lavorerò avanti indietro per un totale di 22 volte ci vediamo più tardi finiti i miei 22 giri vado a tagliare il filo mi correggo sul filo mi correggo sul filo registro e quindi si vedete prima la parte fatto della misura della base, non è 28 perché pensavo all'altezza, ma la base deve essere 42 cm, allora la base deve essere 42 cm per un'altezza di 30 più o meno. La mia tovaglietta a fine lavorazione misura appunto 42 cm per 31, poi un centimetro in più, un centimetro in meno, non è quello il problema, va bene lo stesso. Adesso passiamo alla parte più bella, la decorazione. Prendo la fettuccia di un altro colore, un ago adatto e vado a misurare il filo che mi serve, la fettuccia che mi serve, quindi uno, due, due volte la base e due volte l'altezza, uno e due, anche un po' abbondante. Una volta che ho infilato la fettuccia nell'ago, vado a lasciare nella mia tovaglietta, due centimetri sia nella base e due centimetri anche nell'altezza, quindi nel lato e inizio a ricamare. Vado a lavorare come se lavoro la tela per il punto croce, vado a fare il punto scritto, quindi lasciando i due centimetri sia dalla base che dall'altezza, vado a infilare in questo punto e tiro tutto il filo che ho lasciato sia per la base che per l'altezza, altrimenti non mi basta. Come una sorta, una sorta di impastitura. Vedete? Devo continuare a lavorare così tutto intorno, lasciando sempre i due centimetri sia dalla base che dall'altezza. fate attenzione che il filo si può attorcigliare, quindi cercate di farlo venire su dritto. Continuate a lavorare sempre in questo modo tutto intorno. Ci vediamo quando ho finito di fare il giro. Vi mostro come girare quando siete nell'angolo, invece di andare avanti così, quando dovete girare, mettete l'ago così e verso sotto, in modo tale che il lavoro gira automaticamente. dovete girare, mettete l'ago così e verso sotto, in modo tale che il lavoro gira automaticamente. E continuate con il lavoro, con l'impastitura o punto scritto. Ho fatto tutto il giro. Una volta che sono arrivata qui al punto di partenza, a chi piace può anche lasciare così il lavoro, però io continuo. Faccio quello che ho fatto prima. Prendo di nuovo la fettuccia e calcolo di nuovo due volte la base. e due volte l'altezza. E vado a lavorare indietro, quindi devo ritornare indietro. Prendo la fettuccia e infilo nello stesso punto d'arrivo. Quindi qui sono arrivata e qui rinfilo l'ago. Tornerò indietro fino ad arrivare al punto di partenza. Farò la stessa lavorazione, quindi la stessa impastitura, andando a riempire i posti appunto dove sono rimasti vuoti, in modo tale che verrà riempito tutto. Lavorate così fino ad arrivare al punto di partenza. Lavorando in questo modo si va proprio a creare come una cornice. Beate. Monte. Dona. una volta finito il lavoro mi ritroverò con due fili di fettuccia sopra e due fili di fettuccia sotto andrò semplicemente ad annodarlo per finire appunto il lavoro e invece sopra tagliate i fili della stessa altezza più o meno e andate a formare un bel fiocchetto facendo un piccolo appunto fiocco vai a chiudere completamente anche il lavoro fatelo come volete voi poi potete tagliare anche l'eccesso potete farlo anche doppio una volta finito il primo potete fare anche sopra il secondo poi come più vi piace a voi chiaramente io lo lascerò così semplice vado a tagliare il filo che mi ha avanzato sotto vado a fare un nodino e anche qui tagliate e poi andate a nascondere appunto il filo che ha avanzato ed ecco qui è finita la mia tovaglietta spero che questo risultato vi sia piaciuto chiaramente se lo fate con un colore ancora più forte si vedrà ancora di più se vi è piaciuto lasciate un bel like se non siete ancora iscritti iscrivetevi perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi e da di tutto e di più è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao